Ci troviamo 1-0 al nostro vantaggio, qua al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, ha realizzato la rete Lele, dopo aver sbagliato un calcio di rigore decretato dal direttore di gara della sezione AIA di Chieti, 1-0 in questa fase del primo tempo, questa gara è valevole per il titolo provincia, qua la Virtus Castelfrentano è con la divisa bianca, con i svolti giallorossi tutta bianca, mentre il Casalbordino con la divisa giallorossa hanno i stessi colori sociali nostri, 1-0 fino a questo momento, qua al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, adesso c'è un attacco del Casalbordino, riprendono la palla, 1-0 al nostro favore, si riparte, un affondo mi pare Riccardo da quel lato,